In questa serie di video dedicata al rapporto tra genitori, bambini e videogiochi provo a raccontare anno dopo anno come nostro figlio si avvicina appunto ai videogiochi e in generale come cerco di mantenere la passione videoludica anche se ho poco tempo libero. Questa è solo una condivisione della nostra esperienza personale con i problemi che abbiamo avuto, cosa abbiamo fatto e qualche spunto che magari torna utile ad altri genitori che sono in una simile situazione ricordando comunque che ogni famiglia è diversa e quello che magari funziona per noi non va bene per altri. In questo episodio parlo del secondo anno da genitori continuando quindi il discorso che avevo fatto nel primo video in particolare tiene a mente quello che avevo detto su quanto sia importante il riposo nella vita di un genitore e quindi nel mio caso trovare dei ritagli di tempo in cui giocare visto che i videogiochi sono l'attività con cui mi rilasso più facilmente. Per capire meglio le difficoltà della nostra situazione siamo sempre senza nonni che possono aiutarci e quindi ogni giorno dobbiamo darci il cambio per stare un po' con il nostro figlio e un po' per lavorare, cucinare, pulire casa e seguire tutti gli altri infiniti doveri della vita adulta. Dopo il primo anno e mezzo facendo tutto da soli abbiamo cercato un asilo nido dove il nostro figlio potesse stare almeno la mattina così da avere qualche ora libera in cui possiamo lavorare entrambi. Purtroppo gli imprevisti della vita non si fermano e nell'ultimo anno abbiamo avuto una serie incredibile di problemi con la casa tra aperte di acqua nei muri e dal tetto, una muffa strana che ha invaso le pareti e gli armadi, un sacco di questioni burocratiche sul collegamento con le fogne comunali, i tarli che ci stanno mangiando i mobili e i rovi che stanno invadendo il giardino. Insomma tutti i problemi che mi hanno portato via un sacco di tempo e visto che non sono ancora risolti continuano a impegnarmi per molte più ore di quelle poche che sono state liberate grazie all'asilo. Puoi immaginare come sia difficile trovare del tempo per riposare in questa situazione ma proprio quando la vita è più stressante diventa essenziale impegnarsi anche per trovare dei momenti in cui rilassarsi e riprendere un po' di energia. Come avevo anticipato nel primo video, fino ai 3 o 4 anni eviteremo di usare gli schermi come intrattenimento per nostro figlio, però ci sono comunque altre strade per avvicinarlo ai videogiochi. Ad esempio qualcuno ci ha regalato una tovaglietta con i personaggi di Super Mario e nostro figlio la usa quando mangia e quindi piano piano ha imparato i nomi dei personaggi e li riconosce anche quando li vede da altre parti, ad esempio sulla confezione di qualche gioco. Come per il discorso sulla musica che avevo fatto nel primo video, sarà interessante vedere come reagirà quando ritroverà questi stessi personaggi nel gioco da cui provengono. È un'introduzione in diretta che si può facilmente fare anche con altre cose tipo libri, adesivi e pupazzi e l'importante credo che sia vederli spesso insieme per parlarne e ripeterli i nomi dei personaggi. Al momento credo che quando sarà il momento il primo gioco che gli farò provare sarà Kirby's Dream Land 3 per Super Nintendo, visto che è abbastanza facile da giocare e soprattutto si può giocare insieme in co-op e quindi prossimamente vorrei trovare qualcosa di Kirby così inizia a conoscere anche questi personaggi. Naturalmente il limite è che esistono gadget solo dei personaggi più famosi, però puoi sempre andare in qualche negozio che fa stampe per portare le immagini di altri personaggi dimenticati. Nostro figlio continua ancora a giocare con i controller delle vecchie console e ultimamente si diverte anche a togliere e rimettere le pile dentro i controller dell'Xbox 360. È bello vedere come la sua manualità sia sempre più raffinata e in parallelo aumenta anche la sua capacità di concentrarsi per molto più tempo su qualcosa. Però le sue mani non sono ancora abbastanza coordinate per giocare davvero a un videogioco, quindi anche se volessi farlo giocare adesso non sarebbe in grado di schiacciare i tasti giusti o muovere l'analogico. Questo secondo anno e probabilmente anche il terzo sono da considerare come dei periodi di transizione in cui avere molta pazienza. Anche se mi piace un sacco giocare con il nostro figlio a costruire qualcosa di assurdo con i duplo oppure scavare qualche buca in giardino, per i videogiochi non è ancora il momento. Crescendo la sua maggiore abilità fisica diventa sempre più un pericolo per le mie console e giochi. Ad esempio lo lasciavo giocare con un vecchio Nintendo DS che non si accendeva più e a lui piaceva aprirlo e chiuderlo e schiacciare i tasti a caso. Però adesso gli piace molto di più lanciare le cose lontano e purtroppo è capitato anche al povero DS che si è distrutto completamente. Con il passare dei mesi cresce in altezza, raggiunge dei mobili che prima erano inaccessibili, cammina per casa senza problemi, apre gli scaffali e si arrampica ovunque. E quindi diventa sempre più urgente mettere in sicurezza le console e i giochi a cui sono affezionato e che mi dispiacerebbe molto se venissero distrutti. Naturalmente dal primo al secondo anno di nostro figlio non c'è stato un cambiamento improvviso nel suo comportamento e quindi per un po' di tempo le cose sono andate come raccontavo nel primo video. Però con il passare dei mesi la situazione si è complicata e credo sia utile raccontare un po' come è andata per intuire meglio quanto poco tempo ci rimane durante la giornata e quanto si possa essere stanchi la sera rendendo quindi difficile mettersi a giocare o fare qualsiasi altra cosa senza addormentarsi. L'ambientamento all'asilo nido si è prolungato per alcune settimane e quando ha cominciato poi ad andare tutte le mattine sono anche aumentati gli imprevisti di salute. Infatti è noto come all'asilo i bambini si scambiano facilmente qualsiasi tipo di malattia e quindi nostro figlio è stato a casa malato almeno una settimana al mese e praticamente tutte le volte poi contagiava anche noi con qualche virus intestinale, febbre, tosse, catarro. In parallelo c'è anche il suo mal di denti che prosegue ormai da più di un anno e piano piano stanno uscendo tutti i denti con grande dolore cosa che lo fa svegliare di continuo la notte e di conseguenza anche noi non dormiamo. Ormai ha imparato a camminare da solo e alcune cose durante la giornata sono più semplici ad esempio ci segue se dobbiamo andare in un'altra stanza o scendere le scale senza doverlo per forza prendere in braccio. Però questa capacità di muoversi nello spazio in maniera spericolata aumenta i pericoli e gli imprevisti. Se non stiamo attenti si mette in bocca a qualsiasi cosa trovi in giro soprattutto quelle più pericolose e naturalmente inciampa ancora e va a sbattere contro gli spigoli più letali oppure si lancia in mezzo ai rovi o dentro qualche nido di vespe. L'accudimento quotidiano diventa quindi molto più faticoso anche dal punto di vista fisico soprattutto quando giochiamo in giardino o al parco e dobbiamo essere più veloci di lui per evitare danni. Con l'avvicinarsi dei due anni è anche iniziato quel periodo conosciuto tra i genitori come i Terribili Due in cui i bambini hanno una spinta di autonomia senza però essere ancora in grado di gestire con calma le loro emozioni. Nella pratica si arrabbiano molto per cose che a noi sembrano banali vogliono fare da soli delle cose anche molto pericolose oppure non vogliono assolutamente fare delle cose molto semplici e piuttosto si buttano per strada urlando mentre passa qualche camion. In questi casi è importante ricordare che è un naturale momento di passaggio nella crescita di un bambino e come sempre vale la pena leggere qualche articolo o libro di Uppa che spiega meglio come gestire questa fase. Comunque nella pratica l'avvicinarsi ai due anni significa che ci sono sempre più spesso delle situazioni in cui fare delle cose che dovrebbero essere molto semplici e veloci ad esempio mettersi la felpa per uscire diventano una lunghissima odissea che fa perdere tantissime ore durante la settimana. Insomma se c'è una morale che trarrei dal nostro secondo anno da genitori è che adesso il primo anno a confronto mi sembra che sia stato molto più facile e tendenzialmente la difficoltà aumenterà con la crescita di nostro figlio. Per questo anche con tutta la stanchezza e le difficoltà cerco di godermi il presente con la consapevolezza che i prossimi anni potrebbero essere molto più impegnativi anche se in modi diversi. Visto che adesso la mattina durante la settimana nostro figlio va all'asilo è cambiata la divisione delle ore con cui stiamo con lui e mi capita poche volte di farlo dormire al pomeriggio. Sono quindi diminuiti quei momenti in cui giocavo con le console portatili oppure ascoltavo dei podcast mentre camminavo mentre lui dormiva nel marsupio. Però dopo molti tentativi e grazie anche al suo sonno che adesso è più pesante e quindi rimane addormentato se lo sposto quando lo faccio dormire riesco anche a toglierlo dal marsupio e metterlo nel letto senza troppi problemi. Poi continuo a rimanere comunque di fianco a lui nel letto quando dorme così se si sta per svegliare riesco a farlo riaddormentare più facilmente e poi nel frattempo mi riposo anch'io e gioco a qualche console portatile. A volte riesco anche a farlo addormentare direttamente nel letto ed è una bella soddisfazione. Insomma ci sono meno occasioni per riposare anch'io quando lo faccio dormire però la qualità di questi momenti è migliorata parecchio visto che mi posso sdraiare comodamente. In questo secondo anno in cui sono molto più stanco fisicamente mi fa piacere non dover per forza camminare per ore per riuscire a farlo dormire e per sfruttare meglio i pochi momenti in cui posso giocare mi sono anche fatto regalare una Steam Deck con una colletta da amici e parenti per Natale. Sicuramente le dimensioni di Deck non sono l'ideale per una console portatile però usandola solamente a letto o sul divano posso finalmente giocare esattamente a quello che ho voglia che siano gli ultimi indie sconosciuti usciti su Steam oppure qualche vecchio gioco simulatore di cui hanno appena pubblicato una traduzione amatoriale. Prima di Deck mi era capitato spesso di non giocare anche se avevo un pochino di tempo perché quello che avevo voglia di giocare non era disponibile sulle console portatili che avevo. Un'altra illuminazione che ho avuto durante questo secondo anno è il potere delle demo. su Switch ma soprattutto su Steam Deck durante i Next Fest si possono scaricare tantissime demo di un sacco di giochi affascinanti che puoi provare e finire nel giro di un paio di ore e questo mi ha permesso sia di giocare tantissime cose diverse sia di arrivare alla fine di queste demo per ricevere un po' di quella soddisfazione del finire qualcosa che è una sensazione molto rara in un periodo in cui non si ha tempo per giochi che durano più di 3 o 4 ore. E poi se una demo ti piace molto puoi sempre mettere quel gioco in wishlist per un futuro remoto. Insomma ormai sono convinto che le demo siano i videogiochi definitivi durante la vita da genitore e sono felice di vedere che sempre più spesso ci siano degli eventi come la Next Fest dedicati proprio a far provare giochi più o meno sconosciuti. Mi dispiace solo che a volte queste demo sono temporanee e non puoi più giocarle quando finisce l'evento e io magari non sono riuscito a giocare tutte quelle che volevo. Per finire il discorso su questo secondo anno da genitore posso confermare come sia difficile spiegare a chi non ha figli quanto sia complicato trovare del tempo libero anche per le cose più banali tipo rispondere a qualche messaggio o andare in bagno. Ci sarà sicuramente chi ha la fortuna di avere dei nonni a disposizione che aiutano in qualsiasi modo oppure dei figli che stanno tutto il giorno all'asilo e poi la notte dormono senza problemi. Però parlando con altri genitori sembra delle situazioni molto rare. Per questo capisco bene chi dopo essere diventato padre o madre smette di videogiocare perché le priorità sono cambiate non si ha tempo e magari si preferisce fare altro per rilassarsi. Però in fondo immagino che tutti i genitori appassionati di videogiochi sognino prima o poi di giocare con i propri figli a qualcosa naturalmente nei giusti tempi e spazi. Anche questa volta mi piacerebbe leggere nei commenti i pareri di altri genitori con le loro esperienze sull'argomento però anche eventuali domande o aspettative di chi non è genitore e magari non vorrà mai diventarlo. Per il resto se non ci sono imprevisti si continua il discorso tra un anno.